Cari amici, eccoci nuovamente giunti a una nuova seduta, questa volta avente come oggetto la Trinità in diverse sfaccettature. Vogliamo ricordare che esiste un altro video sulla Trinità creato sempre dal sottoscritto Alessio Evangelisti che riguarda la prima parte di questo meraviglioso tema. Pertanto, per chi fosse interessato ad approfondire questa dottrina, può cliccare sul link che di seguito si esporrà in alto sullo schermo. Senza indugio, vogliamo iniziare subito con la lettura della parola di Dio, iniziando col passo biblico sito in Fatti degli Apostoli, capitolo 1, i versi 4 e 5. E come sempre leggiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Leggiamo. Questo passaggio è necessario leggerlo insieme a un altro passaggio. sito sempre in Fatti degli Apostoli al capitolo 2, i versi che vanno dall'1 al 12, leggiamo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme di pari consentimento, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue spartite come di fuoco, e ciascuna di esse si posò ciascuno sopra uno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare lingue straniere secondo che lo Spirito dava loro a ragionare. Ora in Gerusalemme di moravano dei Giudei, uomini religiosi di ogni nazione di sotto il cielo. Ora essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perciò che ciascun di loro li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo gli uni gli altri, ecco tutti costoro che parlano non sono egli no Galilei. Come adunque li udiamo noi parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi parti, medi e lamiti, quelli che abitiamo in Mesopotamia, in Giudea, in Cappadocia, Ponto, Asia, Friggia, Giudea e proseliti, cretesi, arabi, gli udiamo ragionare le cose grandi di Dio nei nostri linguaggi. E tutti stupivano e restavano così sorpresi dicendo l'uno all'altro che vuol essere questo. Ma altri cavillando dicevano sono pieni di vin dolce. Fin qui la lettura. Benedetto è il nome del Santo Signore. Nel capitolo numero 1 troviamo la promessa del battesimo dello Spirito Santo. Nel capitolo 2 vi troviamo l'adempimento di questa promessa, con tanto di numerosissimi testimoni che ne comprovano la veridicità storica. Con l'avvento del nostro Signore Salvatore, Gesù il Cristo, si sono compiute più di 330 profezie bibliche contenute nell'Antico Testamento e promulgate anche a distanza di migliaia di anni. Allo stesso modo, con l'avvento dello Spirito Santo, si sono concretizzate un gran numero di profezie riguardanti la sua discesa. Sono queste che vanno a incrementare l'attendibilità e la divinità della parola di Dio, l'unico libro al mondo nel quale si possono trovare decine di migliaia di profezie scritte anche a distanza di migliaia di anni, la maggior parte delle quali si sono puntualmente adempiute, mentre le ultime sono in via di compimento sotto ai nostri occhi. Ogni libro della Bibbia possiede le proprie caratteristiche e i propri indirizzi. In questa seduta vogliamo rivolgere la nostra attenzione a due di questi, ovvero il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse sempre di Giovanni, dove troviamo delineata in maniera chiara, comprensibile e palese la dottrina della Trinità. È per questo che in particolar modo nel libro dell'Apocalisse trova tanta opposizione, fino al punto che si arriva addirittura a consigliare di non leggere questo meraviglioso libro, appunto l'Apocalisse. E ci si vuole schierare dietro una falsa assersione, la quale dice che leggere il libro dell'Apocalisse, secondo costoro, desterebbe paura e sgomento nei credenti. Ebbene sì, triste a dirsi, ma ahimè, è vero e non sono pochi coloro che riveliscono queste blasfeme posizioni, accodandosi senza indugio all'antibiblicismo proposto, seguendo questa posizione incondizionatamente e con deferenza, nonché soggezione, piuttosto che seguire e sottostare a ciò che invece ci dice il Signore nella sua parola. Infatti, a smusare questa blasfemia ci penserà direttamente lo stesso libro dell'Apocalisse, il quale senza indugio e con estrema chiarezza dichiarerà con grande eco e grande fragore l'infondatezza di questa assurda posizione, come possiamo riscontrare già dal suo inizio nel capitolo 1, nel verso 3 dove leggiamo «Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e servano le cose che vi sono scritte». Come abbiamo potuto ascoltare direttamente dalla parola di Dio, chi legge il libro dell'Apocalisse è beato. Non ci dimentichiamo che questo verso, trovandosi all'inizio del libro, pone particolare accento appunto al libro stesso, oltre che, ovviamente, anche a tutto il canone biblico formato da ben 66 libri. Pertanto, l'assersione «Beato» implica pace con Dio e vita eterna in Lui. Di conseguenza, possiamo capire che non leggere le parole di questa profezia implicherà esattamente l'opposto. E, se ciò non fosse sufficiente, sempre nello stesso libro troviamo scritte le seguenti parole. Apocalisse, capitolo 22, verso 19. «Se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita, dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro. Il passo è più che chiaro. Guai a chi toglie. Pertanto, chiunque pretenderà di impedirne la lettura, sia dell'Apocalisse che di qualsiasi, ovviamente, altro libro della Bibbia, dovrà portare le pene e i flagelli ivi descritti. «Sia qualsia la sua scusa, essa altro non sarà che un togliere alla scrittura, e guai a chi osa bestemmiare contro allo Spirito Santo, il portatore della vera luce». Matteo 12, 31. Come già detto, nell'Evangelo di Giovanni troviamo presentata la dottrina della Trinità in maniera inconfondibile, chiara e dettagliata. Ci viene mostrato come fra il padre e il figlio si concretizza un vero e proprio dialogo, dimostrando così che sono due persone ben distinte e differenti. Notiamo anche come il padre manda al figlio e come nessuno va al figlio se il padre non lo chiama. Così come leggiamo in Giovanni, capitolo 6, verso 44, «Nessuno può venire a me se il padre che mi ha mandato lo attragga ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Allo stesso tempo notiamo come nessuno va al padre se il figlio non intercede, così come scritto in Giovanni 14, 6. Gesù gli disse, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al padre se non per mezzo di me». Vedi anche prima Timotio, capitolo 2, verso 5, dove leggiamo che vi è un solo mediatore. Pertanto la scrittura non lascia ombra di dubbio nello stabilire che esiste una Trinità ben descritta e definita, composta da tre persone differenti, la quale, come avremo modo di vedere durante questa sessione, è perfettamente paritetica, cioè paritaria, e che non è una contraddizione asserire che, nonostante siano tre persone, in realtà è un solo Dio. Anche di questo parleremo più avanti. L'antitrinitarismo, dottrina nata direttamente dal padre della menzogna, cioè Satana, asserisce che l'Evangelo di Giovanni ci presenterebbe una Trinità simbolica, ma che in realtà questa non esisterebbe. Secondo questa dottrina diabolica, la Trinità ci verrebbe presentata dalla scrittura circoscrivendola unicamente nell'opera di incarnazione del Signore Gesù quando era presente in questo mondo e con un linguaggio figurato, ma che in realtà su nel cielo, dice questa dottrina, non troviamo traccia di nessuna Trinità. Uno dei passaggi preferiti di questa pseudodottrina, permettetemi, luciferina, si trova in Giovanni, capitolo 12, verso 30, dove leggiamo quanto segue. Gesù rispose e disse questa voce non si è fatta per me, ma per voi. Come è noto a tutti coloro che conoscono le scritture, se si volesse pretendere stabilire l'inesistenza della Trinità su questo passo, sarebbe a dir poco ingenuo, nonché scolastico, permettetemi, in quanto si andrebbe a decontestualizzare un verso da tutto il contesto che, come è noto a tutti, un verso fuori dal contesto, altro non è che un mero pretesto. A questo punto non ci rimane che andare alla verità, alla parola di Dio, la Bibbia, e verificare se effettivamente la Trinità sarebbe circoscritta unicamente che sulla Terra, cioè quando il Signore Gesù era qui, in mezzo di noi, e sarebbe semplicemente un linguaggio figurato. Bene. Per far ciò inizieremo con la lettura del libro Atti o fatti degli Apostoli, capitolo 7, verso 55, e verso 56. Leggiamo. Ma Egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù, che stava alla destra di Dio, e disse, Ecco, io vedo i cieli aperti, e il figliuol dell'uomo in piedi alla destra di Dio. La prima cosa che desideriamo sottolineare è la parola vide, che tradotto sta a significare fedele, testimonianza. Già, testimonianza, perché è un fratello in Cristo che sta raccontando per filo e per segno quanto sta vedendo coi propri occhi. Fedele? Beh, fedele perché è la stessa parola di Dio a rappresentarcelo. Quindi la visione è indiscutibile. La seconda considerazione da fare è la rappresentazione della Trinità in questo passo in maniera dettagliata e concreta. Partendo dallo Spirito Santo che, come possiamo vedere, si trova qui sulla terra precisamente nel cuore di Stefano. Vedi Seconda Corinti 6,16 Prima Corinti 3,16 e i riferimenti. Continuando la lettura troviamo al Signore Gesù alla destra di Dio, ovvero del Padre. A questo punto preme segnalare l'importanza dei termini trono e destra. Il primo termine, trono, sta a indicare reame e cioè autorità per decretare, legiferare e legalizzare. Il secondo termine, destra, sta a indicare potere, forza e potenza per attuare quanto decretato e o legiferato. E, a scanso di equivoci, gli attributi appena elencati sono senza ombra di dubbio divini. Infatti, non troverete mai e poi mai nessun angelo seduto sul trono di Dio e alla destra di Dio. Pertanto, Gesù è Dio. Vedi, Romani 9,5, Atti 20, verso 28, Tito 2,13, ma insomma i passi sono molti. Degno di nota è quanto la parola di Dio ci vuole far comprendere in Fatti 7,55 e 56 e cioè che la Trinità la troviamo anche su nel cielo e non soltanto sulla terra. E, se ciò non bastasse, ci troviamo dopo la morte e dopo la risurrezione del nostro Dio e Salvatore, Gesù il Cristo. In questo modo, la scrittura ci presenta in maniera inconfondibile un fatto innegabile e cioè l'esistenza di una Trinità dimostrando così che questa non è una verità circoscritta unicamente che sulla terra al tempo in cui Gesù vi camminava come uomo e che stava parlando semplicemente in senso figurato ma che continua a essere presente anche dopo la sua morte, dopo la sua risurrezione e su nel cielo. Benedetto è il nome del Signore. Ricordiamo che tutto questo non presenta affatto nessuna contraddizione cioè asserire che Dio pur essendo uno solo è formato da tre persone ben distinte, differenti e paritetiche cioè paritarie mentre invece asserire l'opposto cioè che non esiste nessuna Trinità questo sì che è una vera e propria contraddizione ma di questo ne parleremo e lo dimostreremo fra breve. In Osea capitolo 4 verso 6 c'è un passo molto famoso dove possiamo leggere quanto segue il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza perciò che tu hai sdegnata la conoscenza io altresì ti sdegnerò. Attenzione! Parola dura ma necessaria affinché si possa procedere con rispetto e osservanza nei confronti della verità. Togliere lo sguardo dalla Trinità per rivolgerlo verso favole e ideologie umane ci porterà a un sicuro naufragio spirituale. Pertanto asserire che la dottrina della Trinità non è vincolante per la salvezza dell'uomo è a dir poco una blasfemia e un suicidio spirituale. Infatti così come chi ha il figlio ha la vita e chi non ha il figlio di Dio non ha la vita prima di Giovanni 5.12 allo stesso modo chi ha il padre ha la vita e chi non ha il padre non ha la vita e ovviamente chi ha lo spirito santo ha la vita e chi non ha lo spirito santo non ha la vita. Il punto è questo è chiaro che se c'è una Trinità e c'è una Trinità Amen è ovvio ed è scritturale questo che senza di questa non ci sarà nessuna salvezza pertanto come rinnegare o non confessare il nome di Gesù è l'equivalente a non essere salvati questo è scritto in Romani 10 versi 9 e 10 allo stesso modo non confessare o rinnegare il padre e o lo spirito santo è l'equivalente a perdere tale salvezza infatti la salvezza si trova nella verità che ricordiamo essere Gesù Giovanni 14 6 ora è scritto che lo spirito santo ci guiderà in tutta la verità Giovanni 16 13 quindi ci guiderà a Gesù e Gesù a sua volta ci guiderà al padre Giovanni 14 6 pertanto alla luce di questa verità togliere una sola persona della Trinità significherebbe far crollare tutta la salvezza dell'umanità nel Salmo 110 verso 1 leggiamo il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra anche in questo passaggio troviamo la stessa rivelazione presentataci nel passo già affrontato in Atti 7 ovvero che non solo c'è un padre ma che c'è anche un figlio e che entrambi sono Dio infatti l'espressione il Signore ha detto al mio Signore implica Deità per tutte e due le unità e anche in questa occasione ci si rende perfettamente conto che entrambe si trovano su nel cielo e non sulla terra Matteo 5 34 35 e come già detto visto che entrambe siedono sul trono entrambe legiferano decretano e attuano i propri decreti e le proprie leggi che ricordiamo sono attributi divini ora vogliamo passare alla lettura del libro più temuto degli anti trinitari l'Apocalisse Apocalisse capitolo 4 verso 10 e verso 11 leggiamo i 24 anziani si gettavano giù davanti a colui che sedeva in sul trono e adoravano colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone davanti al trono dicendo degno sei o Signore e il Dio nostro o Santo di ricevere la gloria l'onore e la potenza perciò che tu hai create tutte le cose e per la tua volontà sono e sono state create in questo passaggio troviamo all'anziano di giorni che giustamente tutti lo adorano sempre in Apocalisse nel capitolo 5 verso 6 leggiamo poi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che pareva essere stato immolato e aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra in quest'altro passaggio vi troviamo il Signore Dio e Salvatore Gesù il Cristo il quale se ci fate caso allo stesso modo che infatti degli Apostoli sette cinquantasei si trova in piedi ora seguendo la lettura di Apocalisse 5 nel verso 8 leggiamo e quando ebbe preso il libro le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei Santi come vediamo l'agnello cioè Gesù Giovanni 1 28 riferimenti l'agnello viene adorato ed è a questo punto che il quadro si va a chiudere senza ombra di dubbio quando sempre nello stesso capitolo nei versi 13 e 14 leggiamo e tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le cose che sono in essi le udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli e le quattro creature viventi dicevano amen cioè approvavano e gli anziani si prostrarono e adorarono è qui che ogni incertezza sulla realtà di una trinità composta da tre persone ben distinte diverse viene abbattuta infatti il passo è più che chiaro a colui che siede sul trono e congiunzione all'agnello ecco qui due unità immediatamente dopo leggiamo siano la benedizione l'onore e la gloria nota bene la parola gloria la gloria si dà solamente unicamente tassativamente che a dio issaia 48 verso 11 e riferimenti e se ciò non bastasse più avanti fino al verso 14 si ripete l'adorazione e addirittura gli anziani si prostreranno dopo aver detto amen quindi aver confermato l'adorazione e gli stessi nel verso 14 si prostrarono e adorarono bene cari amici come possiamo vedere il passo è più che esplicito ci sono due unità entrambe si trovano su nel cielo e non sulla terra entrambe siedono o sono sul trono ed entrambe vengono costantemente adorate ed entrambe si trovano su nel cielo dopo la morte e la risurrezione del nostro signore salvatore dio gesù il cristo arrivati a questo punto è giunto il momento di dimostrare che credere nella trinità non è una contraddizione tanto per cominciare mai e poi mai nessun trinitario crede in 3d ma in un solo dio e includere tre persone nell'esistenza di un solo dio non è certo una dottrina tirata fuori chissà da quale cassetto al contrario come abbiamo potuto vedere fin qui è la stessa bibbia a parlarcene vero è che la parola trinità non appare nella bibbia ma in compenso vi troviamo la trinità è una contraddizione un dio tre persone assolutamente no piuttosto la contraddizione si concretiserebbe qualora si volesse affermare l'opposto e ora passiamo alle dimostrazioni come ben noto a tutti l'essere umano è stato creato a immagine e somiglianza di dio genesi 1 26 e come altresì noto sappiamo perfettamente che vero è che l'uomo è un solo essere ma è altresì vero che è composto da tre unità ben diverse e divisibili anima corpo e spirito prima tessalonicesi 5 23 questa realtà incontestabile viene ben descritta nell'evangelo di luca al capitolo 16 dove sia lazaro che il ricco dopo la morte nonostante i loro corpi siano stati seppelliti le loro anime continueranno a vivere altrove cioè nel seno di abramo per quanto riguarda lazaro e nell'inferno per quanto riguarda il ricco entrambi riposti nello sceol fino alla risurrezione del cristo poi si divideranno ancora in giacomo 2 26 troviamo scritto il corpo senza lo spirito è morto pertanto essendo l'uomo stato creato a immagine e somiglianza di dio è chiaro che anche esso sia trino e in tutto ciò non vi è nessuna contraddizione però a differenza di dio l'uomo è confinato nello spazio e nel tempo mentre invece dio no ma attenzione quando diciamo che l'uomo è immagine e somiglianza di dio non diciamo uguale ma somigliante il che cambia tutto l'uomo ha tre unità in sé ha lo stesso modo di dio ma una cosa è dio nella propria trinità composta in un certo modo cioè in tre persone ben distinte e un'altra cosa sarà l'uomo nella propria trinità ben diversa da quella di dio ad ogni modo tutto ciò ci aiuta a comprendere la trinità di dio ma andiamo avanti perché da dire ce n'è ancora assai giovanni nel capitolo 17 ci presenta una situazione che è a dir poco delucidante per quanto riguarda la comprensione della trinità leggiamolo insieme giovanni capitolo 17 verso 11 e io non sono più nel mondo ma essi sono nel mondo e io vengo a te padre santo conservali nel tuo nome essi che tu mi hai dati affinché siano uno come noi ancora nel medesimo capitolo ma nel verso 21 dello stesso quindi nel verso 21 leggiamo che siano tutti uno che come tuo padre sei me ed io sono in te anche essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato sempre nel medesimo capitolo verso 22 continuiamo a leggere e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno bene fino a qui la lettura come si può facilmente riscontrare dai versi letti la trinità non è affatto una contraddizione o qualcosa di astratto al contrario è logica è chiara e soprattutto è reale iniziamo con le segesi del passo nel verso 11 leggiamo conservali nel tuo nome è chiaro che qui sta parlando dei credenti ed è altresì chiaro che sono inclusi tutti i credenti cioè la chiesa quindi è un plurale e non di certo un plurale maestatis poi continua e dice essi alto plurale che tu mi hai dati plurale siano uno singolare come noi plurale ora la domanda del milione è ma noi siamo uno a me non sembra al contrario siamo milioni miliardi eppure il signore ci ordina di essere uno dice che siamo uno allo stesso modo il padre il figlio sono due unità eppure sono uno come si può facilmente riscontrare nel verso 22 ma andiamo piano e continuiamo col verso 21 dove leggiamo che siano tutti plurale uno singolare come noi plurale siamo uno singolare insomma cari amici fratelli ascoltatori ma come si può dire che la trinità è una contraddizione o ancor peggio come si può dire che la trinità non esiste solo perché la parola trinità non è presente nella bibbia anche la parola sacramenti non esiste eppure esistono queste due istituzioni poi se non vi piace la parola sacramenti cambiatela pure ma ne rimane il concetto allo stesso modo sarà per la trinità domanda la trinità è una contraddizione risposta assolutamente no così come non è una contraddizione il fatto che la chiesa sia una sola ma è formata da milioni di persone le quali hanno una sola fede un solo sentire una sola speranza un solo obiettivo una sola via una sola identità una sola cittadinanza una sola salvezza eccetera eccetera allo stesso modo la trinità è composta da tre persone ma è un solo dio e come abbiamo potuto vedere direttamente dalla parola di dio non è affatto nessuna contraddizione non avete mai letto l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne genesi 2 24 domanda ma il marito e la moglie sono una sola carne sono un solo corpo un solo essere certamente no eppure il signore dice di sì domanda è una contraddizione assolutamente no ed è talmente chiaro questo parlare questo ragionare che non è una contraddizione che non c'è neanche bisogno di spiegarlo anche un bambino di 5 anni riuscirebbe a capirlo allo stesso modo la trinità non è una contraddizione caso mai come già detto l'antitrinitarismo è una contraddizione perché lo dimostriamo subito vogliamo riprendere il passo esaminato poc'anzi apocalisse 5 13 e rileggerlo insieme e tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare tutte le cose che sono in essi le udiche dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli nota bene cosa dice il passo a colui che siede sul trono e congiunzione all'agnello quante unità sono certamente due ebbene l'antitrinitarismo dice no sono uno scusate permettete concedetecelo ma nel mondo della ragione del raziocinio nonché della grammatica delle segesi e non per ultimo dello spirito ma se non vi dispiace sono i fatti a parlare e non la retorica tradotto l'antitrinitarismo è palesemente una mega contraddizione mentre invece la trinità concedetecelo è una mega verità ma andiamo avanti perché da dire sulla trinità ce n'è veramente assai vogliamo riprendere nuovamente il verso già letto all'intro per spenderci seppur in maniera prammatica due parole giovanni 14 16 rileggiamolo ed io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore che dimori con voi in perpetuo come già detto ripetiamo nuovamente ci troviamo di fronte a due unità ovvero il padre e il figlio e se non fosse sufficiente entrambe stanno affrontando un dialogo d'altronde l'espressione pregherò implica un parlare che a sua volta implica una persona che sia in grado di ragionare quindi di esistere e un dialogo presume la presenza di almeno due unità per cui i requisiti necessari per l'esistenza sono tutti presenti anche leggendo in modo affrettato il passo e senza troppe pretese ci si rende perfettamente conto che le persone comunque coinvolte nel verso non sono solo due ma bensì tre infatti troviamo il signore Gesù che prega il padre affinché il padre a sua volta possa mandare un terzo personaggio ovvero lo spirito santo ecco qui la trinità pertanto asserire che su nel cielo non esisterebbe nessuna trinità e che questa sarebbe circoscritta a un linguaggio figurativo presente presente soltanto nel momento dell'opera dell'incarnazione del Cristo sulla terra è a dir poco una blasfemia infatti smettiamo di leggere il passo in modo affrettato e iniziamo a esaminarlo in maniera più attenta ci possiamo facilmente rendere conto questo alla luce del contesto che il presente dialogo fra Gesù e il padre non avviene sulla terra ma bensì su nel cielo e se non bastasse dopo la risurrezione del signore Gesù come ben specificato in Giovanni 16 verso 7 dove leggiamo è utile per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore cioè lo spirito santo ma se me ne vado io ve lo manderò quindi la preghiera di Gesù rivolta al padre letta in Giovanni 14 16 avviene in cielo e dopo la risurrezione ragion per cui asserire che in cielo non vi si trova nessuna trinità non solo denota una profonda ignoranza biblica grammaticale e irrazionale ma soprattutto è una vera e propria bestemmia contro allo stesso spirito santo così come asserire che Gesù e il padre non sono due persone diverse ma sono la stessa persona significherebbe asserire che Gesù si stia facendo una bella chiacchierata con se stesso il che è assurdo e ridicolo e anche questa è una bestemmia inoltre significherebbe altresì asserire che ci starebbe a tutti quanti prendendo in giro il che è illogico e provocatorio inoltre come già detto in prima Timotio capitolo 2 verso 5 leggiamo che vi è un solo mediatore e questa mediatore avviene in cielo fra il padre e gli uomini e il mediatore è l'avvocato cioè Gesù prima Giovanni capitolo 2 verso 1 un altro passo molto importante e delucidante si trova in prima corinti 1 3 dove leggiamo la grazia e pace a voi da dio nostro padre e congiunzione dal signore Gesù Cristo anche qui come ben noto a tutti ci si trova dopo la morte e la risurrezione del nostro signore dio e salvatore Gesù il Cristo che dire di più gli esempi le dichiarazioni scritturali le esegesi bibliche l'ermeneutica potrebbero continuare all'infinito pertanto ci fermeremo qui come dice la stessa parola di dio chi ha orecchie ascolti ad ogni modo prima di chiudere con questa prima parte della seduta vi vogliamo ricordare qual è il principio della trinità ovvero che cosa è la trinità e per farlo dobbiamo prima capire che cosa non è la trinità ebbene asserire che la trinità è un dio che si manifesta in tre persone esso altro non è che un antitrinitarismo mascherato da trinitarismo dal momento in cui la trinità è sì un dio amèn ma che è composto da tre persone e no che si manifesta il che è tutto diverso attenzione alla finezza delle parole non si può stare con un pie in due bandi ossia trinitari oppure antitrinitari bene terminata questa prima parte della seduta possiamo ora passare alla seconda parte dove tratteremo un controverso tema la parità della trinità Dio è eterno Dio è eterno e questo è il fondamento della trinità di conseguenza anche della dottrina della trinità forse per qualcuno potrebbe sembrare alquanto strano quindi non correlato col discorso ma come avremo modo di vedere da qui a poco senza questo fondamento tutta la trinità quindi anche la dottrina di essa crollerebbe pertanto alla luce di questa verità sarà necessario soffermarci su questa parola per capirne il suo oggettivo significato non sono pochi coloro che hanno solo una mezza idea del suo significato cioè ne conoscono solo una parte di esso il che non lo squalifica ma ovviamente rimane semplicemente una mezza verità e come tutte le mezze verità non sono tutta la verità pertanto alla luce di questa verità possiamo ora passare alle necessarie delucidazioni del significato completo di questa parola appunto eterno per eterno normalmente si intende senza fine cioè che esisterà per sempre succeda quel che succeda mai e poi mai potrà cessare di esistere né potrà essere distrutto il che come già detto è vero ma non è tutta la verità in quanto ne mancherebbe un'altra parte senza la quale non si potrebbe stabilirne l'eternità e cioè deve essere anche senza inizio eh già per essere eterno non basta solo essere senza fine ma bisogna anche essere senza inizio in caso contrario non sarebbe eterno ecco perché soltanto uno è l'eterno e gli altri e gli altri non lo saranno mai e allora i salvati in Cristo si chiederà qualcuno uguale non saranno mai eterno piuttosto entreranno nell'eternità di Dio col padre e con lo spirito santo vero è che in gergo solitamente si usa dire che saremo eterni ma è un modo di dire che non vuole assolutamente significare che siamo l'eterno ma semplicemente vuole indicare che non cesseremo mai di esistere ma ricordiamo che è solo un modo di dire e non un fatto reale e concreto d'altronde tutto è stato creato il mondo l'universo gli angeli i cieli i pianeti eccetera meno che l'eterno egli esiste da sempre non ha un inizio mentre invece tutto il resto ha un inizio squalificandolo così di essere eterno ecco qui il significato completo quindi vero della parola eterno pertanto ripetiamo nuovamente uno solo è l'eterno e gli altri entreranno nella sua eternità ovviamente i salvati a meno che non conosciate qualcuno che anch'esso esista da sempre il che ne dubitiamo concedeteci questa ironia bene una volta rappresentato il reale concreto e oggettivo significato del termine eterno formuliamo ora quello che noi chiamiamo la domanda del milione quale delle tre persone della trinità è eterna cioè senza principio e senza fine è chiaro ed è evidente che se c'è una trinità e come abbiamo potuto vedere fin qui c'è e come è ovvio che ognuna delle tre persone facente parte di essa dovranno rivestire tutti gli attributi divini quali ad esempio onniscienza ogni presenza infinito e non per ultimo appunto eterno ricordiamo inoltre che gli attributi di dio sono prerogativa divina quindi inconferibili ora alla luce di questa oggettiva considerazione si evince chiaramente che sia il padre sia il figlio e sia lo spirito santo sono eterni anche perché come già detto se uno di loro non fosse eterno di conseguenza non potrebbe essere dio ora una volta stabilito questo fondamento che appunto ricordiamo vuole essere il fondamento della trinità possiamo iniziare a costruirci sopra ricordiamo che il fine ultimo di questa riflessione è dimostrare la pariteticità della trinità alla luce di quanto detto fin qui formuliamo ora la seconda domanda del milione se Gesù è Dio ed è Dio amèn come ben specificato in molti passi già elencati li ripetiamo fatti degli apostoli 20 verso 28 ebrei 1 verso 8 romani 9 verso 5 tito 2 verso 13 giovanni 20 verso 19 insomma ce ne sono veramente tanti quindi se Gesù è Dio è chiaro che possiede tutti gli attributi divini fra cui appunto eterno quindi senza principio e senza fine ora la domanda del milione è la seguente se Gesù è eterno com'è possibile che essendo senza principio nella scrittura troviamo dichiarazioni quali oggi ti ho generato buona domanda vero vogliamo leggerlo direttamente dalla scrittura ebrei capitolo 1 verso 5 tu sei il mio figliuolo oggi ti ho generato questo passo è stato preso dalla stessa scrittura nel salmo 2 verso 7 dove leggiamo il signore mi ha detto tu sei il mio figliuolo oggi ti ho generato alla luce di queste dichiarazioni che la stessa scrittura ci pone davanti si rischia di rimanere confusi se non si è ben addentrati nella conoscenza di tutta la scrittura e di tutti i linguaggi in essa presenti infatti se Gesù è Dio ed è Dio amén e se Dio non ha inizio e Dio non ha inizio amén è eterno come è possibile che si legga che Gesù ha un inizio dal momento in cui nella scrittura abbiamo letto oggi ti ho generato buona domanda vero bene tanto per cominciare prima di dare inizio alle relative delucidazioni vogliamo subito porre l'accento sul termine generato che non dobbiamo confondere con creato subito dopo vogliamo invitare l'ascoltatore a non dimenticare quanto detto fin qui sulla persona di Gesù ovvero che essendo Dio è eterno pertanto non ha inizio ed è su questa verità e su questo fondamento che dobbiamo lavorare per capire il significato dei passi appena letti appunto oggi ti ho generato come già detto all'intro della seduta lavorare con un testo in maniera isolata equivalrebbe a un sicuro naufragio esegetico di conseguenza dobbiamo prendere tutta la scrittura e non solamente una parte inoltre non dobbiamo dimenticare che tutta la scrittura ci parla della salvezza dell'umanità quindi dell'opera di redenzione del Signore nei suoi confronti di conseguenza tutte le affermazioni in essa contenute rivestono un significato da seguire e interpretare sempre in questo contesto ecco qui che alla luce di questa verità possiamo iniziare a capire come muoverci di conseguenza nasce in maniera naturale andare ad attingere a un passo che è a dir poco delucidante sito in Filippesi capitolo 5 i versi che vanno chiedo scusa Filippesi capitolo 2 i versi che vanno dal 5 all'8 dove leggiamo quanto segue perciò che conviene che in voi sia il medesimo sentimento il quale ancora è stato in Cristo Gesù il quale essendo in forma di Dio non reputò rapina l'essere uguale a Dio seppure anichilò se stesso prese forma di servo fatto a somiglianza degli uomini e trovato nell'esteriore simile ad un uomo abbassò se stesso essendosi fatto ubbidiente infino alla morte e la morte della croce ecco qui che il quadro si inizia a chiudere in maniera semplice e oggettiva il Signore Gesù è sempre esistito quindi è senza inizio ma poiché si è venuta a creare la necessità di portare avanti un'opera di salvezza per l'umanità persa nei propri peccati e questo per grazia Efesi 2 8 egli cioè Gesù essendo in forma di Dio quindi essendo Dio non reputò rapina l'essere uguali a Dio prendendo forma di servo a somiglianza degli uomini in poche parole si è fatto uomo vero per la salvezza dell'umanità ed è in questo contesto che viene a inserirsi l'affermazione l'attapocansi in ebrei 1 5 salmo 2 7 appunto oggi ti ho generato pertanto ci si sta riferendo all'opera di redenzione dell'umanità la quale esula completamente dall'eternità di Dio dove egli è sempre esistito e qui bisogna soffermarci un attimino per riguardare a una grandissima verità la quale è imprescindibile conoscere per capire tutto questo concetto nella persona di Dio esistono due sfere ora quando utilizziamo il termine sfere lo utilizziamo semplicemente per far capire delle realtà spirituali pertanto se a qualcuno non piacesse o non fosse d'accordo con questo termine può tranquillamente cambiarlo lo abbiamo scelto semplicemente perché non ce n'è venuto un altro alla mente ora nella prima sfera vi troviamo il Dio prima del tempo nella seconda sfera vi troviamo sempre Dio ma nel tempo domanda che cos'è il tempo risposta il tempo è l'inizio della creazione in Genesi capitolo 1 verso 1 leggiamo nel principio creò Dio nel principio di cosa nel principio del tempo e prima di questo principio cosa c'era semplice assolutamente nulla fuorché il Dio d'altronde non ci dimentichiamo che per eternità si intende anche laddove il tempo non esiste per cui alla luce di questa realtà dobbiamo capire che una cosa è il Dio prima della creazione quindi fuori dal tempo per cui nella prima sfera e un'altra cosa sarà il Dio dentro della creazione quindi dentro del tempo ovvero nella seconda sfera pertanto quando in filippesi capitolo 2 verso 6 7 e 8 leggiamo il quale essendo in forma di Dio non reputò rapina l'essere uguale a Dio eppure anichilò se stesso prendendo forma di servo fatto a somiglianza degli uomini trovato nell'esteriore simile ad un uomo abbassò se stesso essendosi fatto ubbidiente fino alla morte e la morte della croce bene quando leggiamo questo passo dobbiamo capire che questa azione di Dio concreta pratica è stata realizzata concretizzata da Adonai Elohim dentro del tempo quindi nella seconda sfera e per la salvezza della umanità persa nei propri peccati alla luce di quanto partecipatoci direttamente dalle sacre scritture possiamo precisare quanto segue prima della creazione Dio è sempre esistito in tutta la propria pienezza e consistenza e da sempre non è con principio ma è senza principio ma una volta creato il tempo inserendovi anche il creato e una volta accaduto quanto verificato nell'Eden con Adamo Eva quando Eva peccò e Adamo anche peccò egli uscì fuori dall'eternità dove sempre è esistito e lasciò l'essere uguale a Dio per entrare nel tempo diventando uguale agli uomini per la salvezza degli uomini quindi prendendo un corpo come il nostro questa è la seconda sfera ovvero la sfera del tempo della creazione e della salvezza dell'umanità questo è importante poiché tutto si svolge in questo e in questa seconda sfera per cui quando leggiamo la Bibbia dobbiamo sempre tenere presente queste due sfere ricordando che tutta l'opera della salvezza si muove unicamente che in questa seconda sfera appunto la sfera del tempo e della creazione ecco perché nella Bibbia troviamo che Gesù pur essendo il Dio quindi senza principio fu generato cioè ebbe un inizio ma è chiaro sta parlando dentro della seconda sfera quella del tempo e della creazione ricapitolando Gesù dopo aver creato la seconda sfera prima scusate Giovanni capitolo 1 verso 1 2 3 vi si inserì dentro prendendo forma umana quindi essendo generato ecco qui l'inizio di Gesù nel tempo ovvero come vero uomo e tutto questo è circoscritto nella salvezza del genere umano tutto gira intorno a questo ecco perché quando leggiamo un verso della bibbia dobbiamo sempre non solo tener presente queste due sfere ma dobbiamo capire in quale delle due sfere ci si trova per cui sia il salmo 2 che brei 1 5 dove abbiamo letto oggi ti ho generato si riferiscono entrambi a questa seconda sfera appunto la sfera del tempo della creazione e della salvezza dell'umanità arrivati a questo punto e acquistata la necessaria conoscenza delle realtà spirituali rappresentateci direttamente dalla stessa scrittura possiamo ora affrontare con estrema facilità il tema della pariteticità o egualitarismo della trinità tradotto nessuno è più grande nessuno è più piccolo sono semplicemente e perfettamente paritari per capire la parità della trinità dobbiamo iniziare con l'esaminare gli attributi di essa dei quali uno lo abbiamo già considerato quindi non ci torneremo sopra appunto Dio è eterno e uno solo è l'eterno altri attributi sono Dio è onnisciente onnipresente onnipotente eccetera eccetera ci piacerebbe soffermarci su quest'ultimo cioè onnipotente per onnipotente si intende quanto segue che può tutto quindi nulla gli è impossibile ora alla luce di questa verità bisogna considerare nuovamente quanto già valutato precedentemente e cioè se c'è una trinità è chiaro che ognuna delle persone facente parte di essa debba possedere tutti gli attributi divini fra cui appunto onnipotente in caso contrario se una persona della trinità non fosse onnipotente è chiaro che non sarebbe il dio in quanto solo il dio è in grado di avere il potere di fare qualsiasi cosa quindi la mancanza di questo attributo in uno o in una delle tre persone della trinità comporterebbe il crollo di essa cosa che è impossibile pertanto da questa realtà possiamo capire perfettamente dalla scrittura che la trinità è assolutamente paritaria in quanto ognuna delle tre persone sono onnipotente infatti se una delle tre persone fosse più grande delle altre due automaticamente comporterebbe che le altre due non fossero onnipotente squalificandone così la divinità d'altronde essere il più grande significa anche avere più comando quindi più autorità per attuare pertanto il più piccolo non avendo tutta l'autorità del più grande automaticamente non potrebbe agire su tutto o fare tutto liberamente squalificandolo così come onnipotente e quindi come dio semplice no bene alla luce di quanto esaminato fin qui possiamo capire che la trinità di dio è perfettamente paritaria in tutto e per tutto arrivati a questo punto possiamo dar inizio alle ormai consuete domande del milione che tanto ci caratterizzano la prima nasce dal famoso nonché controverso passo biblico sito in giovanni 14 verso 28 dove leggiamo quanto segue voi avete udito che io vi ho detto io me ne vo e tornerò a voi se voi mi amaste certo voi vi rallegrereste di ciò che ho detto io me ne vo al padre poiché il padre è maggiore di me nota bene il padre è maggiore di me ecco qui quello che potrebbe sembrare un duro colpo alla parità della trinità ma così non sia poiché come abbiamo potuto vedere fin qui la trinità è perfettamente paritetica il punto è che semplicemente bisogna leggere e valutare i passi biblici nella totalità della sacra scrittura senza mai decontestualizzare nulla è chiaro che questo passo va letto in concomitanza dell'ormai noto testo sito in filippesi 5 versi 6 7 e 8 lo vogliamo rileggere lo abbiamo già fatto ma continuiamo a rileggerlo perché è importante il quale essendo in forma di dio non reputò rapina l'essere uguale a dio eppure anichilò se stesso prendendo forma di servo fatto alla sobiglianza degli uomini e trovato nell'esteriore simile ad un uomo abbassò se stesso essendosi fatto obbediente infino alla morte e la morte della croce pertanto se rileggiamo attentamente giovanni 14 28 ci accorgeremo immediatamente che tutto gira intorno alla salvezza dell'umanità infatti il verso inizia con l'affermazione voi avete udito che io vi ho detto io me ne vo e tornerò a voi se voi mi amaste certo voi vi rallegrereste di ciò che ho detto sta parlando appunto leggendolo nel contesto di tutto il capitolo se lo leggete nelle vostre case sta parlando della discesa dello spirito santo quindi dell'opera della salvezza e rigenerazione dell'umanità e come abbiamo potuto vedere fin qui tutta quest'opera di redenzione comporta l'auto abbassamento e l'auto spogliamento del Signore Gesù questo è importante lo ripetiamo tutta l'opera di redenzione comporta l'auto abbassamento e l'auto spogliamento del Signore Gesù e dei Suoi attributi e questo avviene nella seconda sfera cioè la sfera del tempo della creazione e della redenzione una ulteriore dimostrazione di questa verità incredibile si trova sempre nell'epistola agli ebrei nel capitolo 2 verso 7 dove leggiamo quanto segue tu l'hai fatto per un poco di tempo minore degli angeli nessun passo si presta come questo per apportarci le necessarie delucidazioni per togliere il velo su questo mistero ovviamente ebrei 2 si riferisce a Gesù ora la domanda del milione è ma Gesù non era Dio? risposta certo che era Dio non solo era ma lo è ancora oggi e lo sarà sempre ora se Gesù è Dio come è possibile che la scrittura ci dice che è inferiore a un angelo appunto ebrei capitolo 2 verso 7 ebbene cari amici e ascoltatori ecco qui che è la stessa epistola degli ebrei capitolo 2 verso 7 a darci la risposta infatti se leggiamo attentamente possiamo leggere quanto segue per un poco di tempo nota bene per un poco di tempo ma è chiaro l'Ideo Altissimo creò il tempo vi inserì il creato con la relativa umanità e essendo questa venuta meno a causa del peccato esso cioè Dio invece di distruggerla decise di salvarla quindi entrando nel tempo prese forma di servo facendosi non solo uguale agli uomini ma addirittura facendosi inferiore agli angeli ma attenzione il passo dice per un poco di tempo cioè il tempo che camminò in questa terra alleluia per cui è ovvio che l'affermazione sita in Giovanni 14 28 il padre e maggiore di me va collocata nella seconda sfera cioè la sfera del tempo dove Gesù sta svolgendo ancora oggi un'opera di redenzione facendosi infatti si trova su nel cielo per intercedere per noi prima timotio 2 5 quindi in quest'opera di redenzione egli si è fatto inferiore a anche agli angeli quindi si è fatto inferiore al padre si è fatto inferiore agli angeli è diventato uguale a noi per poi salvarci e portarci su nel suo regno cioè nell'eternità laddove il tempo non esiste come vedremo poi alla fine di questa seduta ovviamente una volta risorto dai morti è salito su nel cielo e ogni cosa gli è stata sottoposta e quindi anche gli angeli pertanto non è più inferiore ad essi ebrei capitolo 1 un'altra dimostrazione che gesù si è auto abbassato a tutto e a tutti si trova nel fatto che come vero dio è chiaro che è onnipresente ma essendo divenuto inferiore al padre inferiore agli angeli e fattosi uguale agli uomini come vero uomo si è autolimitato nel tempo e nello spazio infatti il corpo umano non può stare in tutti i posti e allo stesso tempo ma gesù essendo il dio aveva anche la possibilità di riprendere la propria naturalezza divina quando come voleva la dimostrazione semplice si trova in giovanni capitolo 1 verso 48 dove leggiamo natanaele gli disse onde mi conosci gesù rispose e gli disse avanti che filippo ti chiamasse quando tu eri sotto il fico io ti vedeva ecco qui che gesù come vero dio non è inferiore a nessuno e neanche è limitato nel tempo e nello spazio ma come vero uomo si lo è e si è abbassato davanti a tutti fino al punto di morire e morire sulla croce come ben precisa l'ormai noto passo già letto più volte quindi non lo rileggiamo più filippesi 2 verso 6 7 e 8 appunto il quale essendo in forma di dio eccetera eccetera come abbiamo potuto vedere gesù è morto domanda puoi dio morire risposta assolutamente no eppure gesù è morto ecco qui un auto abbassamento abbassamento al padre e addirittura agli angeli stessi per farsi uguale agli uomini ma come scritto altresì in giovanni capitolo 10 verso 18 per questo mi ama il padre perciò che io metto la vita mia per riprenderla poi nessuno me la toglie ma io da me stesso la depongo io ho podestà di deporla ed ho altresì podestà di riprenderla pertanto cari amici ascoltatori quando leggiamo che gesù è inferiore al padre lo leggiamo sempre nel contesto del tempo dello spazio della creazione e dell'opera della salvezza dell'umanità l'ultima dimostrazione di questa verità e con questo andiamo a concludere questa seduta la troviamo nell'altrettanto noto passo sito in prima corinti capitolo 15 verso 28 dove leggiamo quanto segue ora dopo che ogni cosa gli sarà stata sottoposta allora il figliuolo sarà anche egli sottoposto a colui che gli ha sottoposta ogni cosa a ciò che Dio sia ogni cosa in tutti anche qui se leggiamo il passo dentro tutto il proprio contesto quindi nel capitolo ci si può tranquillamente rendere conto che il fondamento di questa solenne asserzione posa esclusivamente che sulla salvezza dell'umanità così come ben precisa il passo appunto già a cominciare dall'inizio in particolare dal verso 3 dove leggiamo Cristo è morto per i nostri peccati come possiamo vedere il passo è a dir poco chiarissimo ci troviamo in piena opera di salvezza per i nostri peccati ancora nel verso 4 leggiamo e che egli fu seppellito e che risuscitò al terzo giorno nel verso 6 leggiamo appresso apparve ad una volta a più di 500 fratelli ecco qui la sua morte nel verso 4 e nel verso 6 la sua risurrezione ancora nel verso 21 leggiamo poiché per un uomo è la morte per un uomo altresì è la risurrezione dei morti nel verso 23 leggiamo ma ciascuno nel suo proprio ordine Cristo è le primizie poi nel suo avvenimento saranno vivificati coloro che sono di Cristo nota bene le parole ordine e primizie indicano chiaramente un'opera compiuta nel tempo poi nel verso 24 leggiamo poi sarà la fine quando egli avrà rimesso il regno in man di Dio Padre dopo che egli avrà ridotta al niente ogni signoria ogni podestà e ogni potenza come abbiamo letto poi verrà la fine la fine di cosa la fine dell'opera di redenzione chi dentro dentro chi fuori fuori la quale trova la sua concretizzazione appunto nel tempo ed è in questo tempo e in questa opera che viene a collocarsi l'ultimo verso che stiamo prendendo in esame appunto il verso 28 lo rileggiamo ora dopo che ogni cosa gli sarà stata sottoposta allora il figliuolo sarà anche egli sottoposto a colui che gli ha sottoposta ogni cosa a ciò che Dio sia ogni cosa in tutti ecco qui che il verso alla luce di tutto il contesto acquista tutto il profumo nel suo significato più profondo che come già detto riguarda esclusivamente la salvezza dell'umanità persa nei propri peccati pertanto il verso va collocato nella seconda sfera appunto la sfera del tempo e della creazione la quale come altri si già detto esula dalla prima sfera dove il signore nella propria trinità è sempre esistito rivestendo tutta la propria deità in maniera paritetica infatti il verso 28 precisa dopo che ogni cosa gli sarà sottoposta nota bene i seguenti termini dopo il termine dopo indica un'azione di tempo quindi circoscrive il verso nel tempo di conseguenza nella creazione e nell'opera della redenzione poi dice ogni cosa gli sarà sottoposta anche qui ci si trova davanti a un'opera da realizzare dal momento in cui che ogni cosa dovrebbe essergli sottoposta già a partire dalla creazione mentre invece così non è ovviamente per suo beneplacito per cui è chiaro che c'è un'opera da compiere ed è in quest'opera di redenzione che il signore Gesù si è sottoposto al padre e al finale di quest'opera per la sua conclusione è ovvio che la si dovrà concludere sottoponendola al padre dal momento in cui è stato lui cioè Gesù il compitore di quest'opera è chiaro che anche lui si sottoporrà al padre ma è in virtù della conclusione dell'opera ora però una volta conclusa così come al signore Gesù nessuno gli ha tolto la vita ma egli stesso l'ha deposta e allo stesso tempo a podestà di riprendersela quando e come vuole Giovanni 10 18 in egual modo nessuno gli toglie la sua gloria ma egli stesso l'ha lasciata e se la riprenderà quando vorrà cioè alla conclusione dell'opera dopo aver chiuso il tutto sottoponendolo al padre allora egli cioè Gesù si riprenderà alla gloria che ha sempre avuto prima della creazione del tempo e del mondo essendo uno solo col padre e con lo spirito santo dove nessuno è più grande e nessuno è più piccolo e senza contraddizione grande il mistero della pietà colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito è apparso agli angeli è stato predicato fra i gentili è stato creduto nel mondo è stato elevato in gloria prima timotio 3 16 bene cari amici con quest'ultimo verso siamo giunti alla conclusione di questa importante e affascinante seduta con la quale non si vuole pretendere di colmare tutto il tema della trinità né tantomeno si ha la pretesa di averne le capacità ma come semplici uomini e inutili servi abbagliati dall'amore di Gesù il Cristo e colpiti dal desiderio di proclamare la sua parola vi dedichiamo quanto detto pur sapendo che nessuno mai potrà immeggersi completamente in queste acque così profonde e irraggiungibili come appunto quelle della trinità ma pur sapendo altresì che anche se vediamo come attraverso di uno specchio prima corinti 13 12 comunque possiamo tracciarne i parametri generali senza i quali ci sarebbe impossibile raggiungere la verità e cioè Gesù il Cristo pertanto nel concludere diciamo gloria al padre gloria al figlio e gloria allo spirito santo d'altronde se c'è una trinità è chiaro che tutta la trinità va adorata infatti non dobbiamo confondere l'adorazione con la preghiera una cosa è adorare un'altra cosa è pregare mentre invece il principio della preghiera è andare al padre nel nome di Gesù per la potenza e la guida dello spirito santo ad ogni modo questo principio non ci impedisce comunque di parlare anche direttamente col Signore Gesù o con lo spirito santo o con il padre insomma chi ha orecchie spirituali ascolti attentamente ciò che la parola di Dio ci dice in tutto il suo contesto e a Dio che ne degno vada sempre tutta la gloria da sempre in eterno con questo vi salutiamo e vi lasciamo con l'amore del nostro Signore e Salvatore Gesù il Cristo ricordandovi che molto presto la tromba suonerà e i morti in Cristo risusciteranno e noi che saremo vivi in quel momento saremo trasformati in un batter d'occhio e la Chiesa non è stata chiamata a passare per la grande tribolazione ma scampar da essa con questa speranza vi lasciamo e vi salutiamo Dio vi benedica pace e bene Maranatha grazie a tutti grazie a tutti